Ma dal punto di vista geologico, questo ponte si può fare o non si può fare? In qualità di geologo, vi propongo oggi di andare a vedere proprio il contesto geologico che c'è nella zona dello stretto di Messina. Andiamo a vedere come sono i movimenti delle placche tettoniche in quest'area, che tipo di faglie ci sono, e vi faccio vedere proprio com'è la struttura, quindi la geologia strutturale, proprio sotto allo stretto di Messina. Faccio questo video per darvi un elemento in più, quello geologico, da mettere insieme a quello ingegneristico, economico, di cui si parla spesso. Quando si parla di ponte sullo stretto di Messina si parla soprattutto di economia, ma questo ponte ne vale la pena o no? Si dimentica troppo spesso appunto la sfera geologica e questo non possiamo permettercelo, quindi vi do un input in più da aggiungere a tutti gli altri per farvi un'idea. Quest'area del Mediterraneo è un'area strutturalmente, geologicamente, molto complessa. Perché? Perché ci sono placche e microplacche che si muovono in tante direzioni, per cui si vengono a creare delle zone di compressione, delle zone di estensione, una placca che si muove di qua, una placca che si muove di là, tante faglie, attivazioni di tante faglie. La zona è altamente sismica, come sappiamo, tutta l'Italia, tutto l'Appenino è sismico, ma è molto sismica anche la Calabria e la Sicilia. E nel mezzo, tra la Calabria e la Sicilia, questa sismicità non è che scompare, anzi. Piccola parentesi, essendo estremamente complessa la geologia strutturale di questa zona, io ovviamente in questo video semplificherò, però cercherò di non semplificare il concetto principale, che è quello che serve per capire, non essendo esperti. Il territorio siciliano fa parte della placca africana e quest'ultima spinge verso nord, nord-ovest, contro l'Eurasia, per cui un primo sforzo c'è da sud, praticamente verso nord. Allo stesso tempo, però, ci sono altri movimenti, come quello del Mar Tirreno, che spinge verso est, verso praticamente la Calabria, per cui c'è un movimento anche verso est-nord-est. Per cui se spingo di qua verso nord-ovest e dall'altra parte verso est-nord-est, il risultato è che al centro praticamente si strappa, come quando prendo un foglio di carta e tiro da entrambi i lati, trac, si strappa. Questo, tra virgolette, strappo, in geologia, è chiamata zona di estensione. Lo stretto di Messina è nel bel mezzo di una zona di estensione. Infatti, oggi Sicilia e Calabria si stanno lentamente allontanando. Infatti, se andiamo a fare una sorta di scansione sotto al fondale marino, nello stretto di Messina, vedremo una situazione del genere. Ci sono delle faglie cosiddette normali, estenzionali, che ogni tanto si attivano. Vedete, sembra che ci siano dei scalini, sia da una parte a destra, che c'è la Calabria, sia a sinistra, che c'è la Sicilia. Allontanandosi, chiaramente, queste faglie si riattivano e ad ogni riattivazione c'è un terremoto. Quindi, facciamo un attimo mente locale, facciamo ordine. Ci sono due aspetti da considerare per la costruzione di un ponte in questa zona. Uno, l'allontanamento tra Calabria e Sicilia. Due, i sismi, i terremoti. Le due cose, come potete immaginare, sono legate, però le trattiamo in maniera diversa per semplificarci la vita. Il primo, l'allontanamento. Di quant'è questo allontanamento? Che parliamo di millimetri, di centimetri, di metri all'anno? Gli ultimi rilevamenti di recenti studi scientifici rivelano che il movimento di apertura dello stretto è tra i 0,5 e i 0,8 mm all'anno. Parliamo di mezzo millimetro o poco più all'anno. In realtà, il movimento è ancora più complesso perché non c'è solo una componente estensionale che fa separare i due, ma c'è anche una componente laterale, come se li facesse strusciare. Questa componente laterale ovviamente bisogna prenderla in conto e gli autori dicono che si aggira intorno ai 0,4 1,1 mm all'anno. Per ora prendiamo in conto solamente la componente estensionale che è un attimo più semplice da capire. Esagerando, prendiamo un millimetro all'anno. Un millimetro all'anno significa 10 mm in 10 anni. In 100 anni sarebbero 10 cm. Per arrivare a un metro ci vogliono mille anni. Ovviamente sono valori di referenza, non esatti proprio, precisi, precisi, però insomma ci danno un'idea. Lo spostamento di un metro che avverrebbe in mille anni, che è un periodo enorme per il progetto di un ponte, solitamente il progetto di un ponte, è fatto sulla base di un periodo inferiore a mille anni. Ma teniamo in conto mille anni, quindi un metro. Un metro di spostamento l'ingegneria lo riesce a gestire, ma tranquillamente. Gli ingegneri civili che vedranno questo video sicuramente potranno confermare. Purtroppo non ho avuto modo di intervistare un ingegnere civile sarebbe stato sicuramente interessante, perché no lo potremo fare più in là. Scrivetemi nei commenti se questa cosa vi può interessare, magari facciamo un secondo video. Secondo problema, i terremoti. Un ponte così lungo, perché poi si tratterebbe, non l'abbiamo ancora detto, ma probabilmente lo saprete, del ponte a campata unica, quindi sospeso più lungo del mondo. Non è che stiamo parlando di un ponte, sarebbe il ponte più lungo del mondo sospeso. Ebbè, la situazione sismica permetterebbe la costruzione di un ponte? Dovete sapere che questa zona è stata colpita violentemente nel 1908 da un grandissimo terremoto 7.1 della scala Richter, una magnitudo enorme che rase praticamente al suolo, purtroppo, Messina e Reggio Calabria. Gli amici calabresi e siciliani lo sapranno e come. Ci furono circa 80.000 vittime, quindi un disastro. Se c'è stato un terremoto del genere nel 1908, non è assurdo pensare che nei prossimi 50 anni ce ne possa essere un altro. Ovviamente, non sto dicendo questo, speriamo che non avvenga, speriamo che avvenga il più tardi possibile. Magari può avvenire un terremoto grosso, ma non così grosso, o magari può avvenire un terremoto addirittura più grande. Purtroppo, in questo mondo della geologia, della sismologia, ci sono grandi incertezze, i terremoti, non possiamo prevederli. Un ponte così grande terrebbe a una scossa 7-8 della scala Richter? Non sono un ingegnere, per cui non posso darvi una risposta certa. Però, così, parlando con voi, sicuramente sappiamo che in altre zone del mondo, come il Giappone e la California, per esempio, che sono due zone molto più sismiche rispetto all'Italia, e beh, là ci sono dei ponti. E i ponti tengono, e tengono a delle scosse anche enormi di 7-8. D'altro canto, però, dobbiamo dire che il ponte oggi più lungo al mondo, a Campata Unica, quindi sospeso, è circa 1.900 metri. Quello sullo stretto di Messina dovrebbe arrivare a 3.300, quindi stiamo parlando di più di 1.000 metri in più, cioè più del 30% in più. La sfida ingegneristica è enorme in questo caso, quindi la risposta è, non è così immediata, tendenzialmente sì, però ci sarebbe sempre un'incertezza, perché queste condizioni, cioè un terremoto 7-8 con un ponte di 3.3 km, oggi non esiste. Bene, alla luce di tutte queste considerazioni, cosa ne penso io personalmente? Io penso che, come molti colleghi con cui ho parlato negli ultimi giorni, professori dell'Università della Sicilia e della Calabria, penso che l'uomo è capace di fare cose incredibili, per cui se il progetto è un progetto di altissimo livello, progettato bene, fatto bene, con la manutenzione giusta, potrebbe reggere al contesto geologico avverso. In altre parti del mondo abbiamo dato prova che i ponti possono tenere, possono reggere a delle scosse enormi, ai movimenti anche minimi di millimetri, delle placche tettoniche. Questo ponte di 3.300 metri, insomma, è una nuova sfida. Però io sono personalmente fiducioso, sono una persona positiva, per cui credo che l'ingegneria può gestire il rischio geologico in questa zona. Se mi chiedeste, Andrea, sarebbe un'assurdità dal punto di vista geologico costruire un ponte sullo stretto? Vi risponderei, non è una passeggiata, i rischi ci sono, ma non sarebbe un'assurdità dal momento che l'ingegneria può potenzialmente tenere a bada le sollecitazioni geologiche, ma la costruzione di un'opera del genere deve tenere in conto tantissimi aspetti, non solo le sollecitazioni meccaniche di origine geologica, ma anche i venti, le correnti, come nel caso del progetto in alveo. Ci sono poi gli aspetti economici, ambientali, sociali da prendere in considerazione. Dal momento che non sono un economista né un sociologo, la risposta, ponte sì o ponte no, sarebbe solo sintomo di poca professionalità. Detto ciò, io vi ringrazio tanto per l'attenzione, se questo video vi è piaciuto condividetelo con i vostri amici. Io vi ringrazio vivamente di iscrivervi al canale YouTube, di seguirmi sulla pagina Facebook, perché in questo contesto dei social più follower c'hai e più porte si aprono per fare nuovi progetti. Io sono Andrea Moccia, geologo, questa è Geologia Pop, le scienze della Terra nella vita di tutti i giorni. Alla prossima, ciao! Grazie a tutti!